Ciao amici di Dodeca, la Pasqua si avvicina e cosa c'è di più bello di fare un regalo differente? Ecco con il mio tutorial riusciremo a fare un uovo di Pasqua personalizzato con uno splendido fiocco in pasta di zucchero. Seguitemi! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Visto come è stato semplice, voi però se avete dubbi, perplessità scrivetemelo nei commenti. Io vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!